Dopo lo stop della scorsa settimana per i gazebo, i tavolini e gli ombrelloni dei locali di Piazzetta Rodinò, è toccato questa volta ad uno degli storici locali di Piazza dei Martiri smontare il proprio gazebo. Ma a cosa sono dovuti i blitz della polizia amministrativa? Certamente una normativa vecchia è molto complicata, ma anche le richieste del sovrintendente Stefano Gizzi sono alla base degli stop di queste settimane. Si è scatenata poi una vera e propria battaglia a suon di carta bollata da parte dei gestori dei locali, che sostengono di essere in regola con le autorizzazioni sulla base del silenzio assenso del comune. Principio che viene invece contestato dall'assessore al commercio Marco Esposito. Sulla base del vecchio regolamento, come sappiamo, ci sono dei tempi, delle cose abbastanza complesse, spesso la sovrintendenza frena determinati interventi, determinate richieste. Caso per caso stiamo cercando di intervenire e quello che non è accettabile a mio perere è che si dica, visto che le regole sono complicate non le rispettiamo. Comunque il rispetto alle regole è sempre un bene. Intanto è stato già approvato in Giunta e dovrà essere discusso in una delle prossime sedute del Consiglio Comunale il nuovo regolamento che renderà più snella e semplice la procedura per le autorizzazioni. La Giunta ha già approvato un nuovo regolamento che è stato peraltro ampiamente discusso con la Commissione Commercio del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale mi auguro, immagino, che rapidamente metterà in discussione questo regolamento per modificarlo, per integrarlo, per approvarlo soprattutto e contemporaneamente, visto che il tempo passa e siamo arrivati in primavera e c'è voglia di stare all'aperto, contemporaneamente c'è bisogno di dare tutte le autorizzazioni possibili. Per esempio a Piazzetta Rodinò, dove c'erano stati dei problemi, abbiamo chiesto di riformulare la richiesta e la domanda e abbiamo autorizzato in 48 ore. Quindi noi cerchiamo come amministrazione comunale di fare tutto il possibile, ma ovviamente non possiamo che agire nel rispetto delle regole che ci sono.